Il dialogo ha preso una direzione positiva. È soddisfatta la presidente del CDA della Comunanza Agraria Appennino Gualdese Nadia Monacelli il giorno dopo l'incontro in regione con il sindaco di Gualdo Tadino Presciutti e l'assessore Mischianti per trovare un accordo sulla gestione della montagna gualdese per quanto attiene gli usi civici. Presso l'ufficio del Servizio Foreste ed Economia Montana è stato esaminato il protocollo d'intesa stilato dalla regione che stabilisce oneri e responsabilità di ciascuno nel merito degli usi civici. Non si è arrivati alla firma perché apportate le dovute modifiche la convenzione tornerà all'esame dei due contraenti il 12 febbraio. Il Comune non ha eccepito sul riconoscimento della presenza di usi civici su 2.500 ettari di montagna gualdese. La comunanza dal canto suo si è detta disponibile, come già espresso in precedenza dal commissario Galli, a discutere su investimenti da effettuare in area montana, dal masterplan che riguarda la valorizzazione della Val Sorda fino al parco eolico di Valmare. Il protocollo d'intesa sarà valido fino al momento in cui il commissariato agli usi civici di Roma non si esprimerà in maniera definitiva sulla titolarità dei 2.500 ettari di montagna gualdese, ovvero sulla proprietà effettiva di tale area che potrebbe, come sostengono i richiedenti, essere riconosciuta la comunanza. L'udienza, ma non è detto che sia quella definitiva, è attesa per il prossimo 17 marzo.